Il vostro tema è composto da tutti i studenti della Politecnica di Milano che state eseguendo il corso di Ingegneria, però ha vinto il premio della critica, premio speciale perché appunto è stato affidato per la costanza dei rendimenti che avete fatto registrare nel corso di competizione. Siete orgogliosi di questo premio? Beh sicuramente sì, non ce l'aspettavamo ma ci ha fatto molto piacere riceverlo. Sapevamo di non essere sul podio tra i primi classificati, quindi l'invito comunque ci ha sorpreso. Quando abbiamo capito che era anche per premiarci, era proprio un premio della critica, questo ci ha fatto molto piacere indubbiamente. Nelle 30 settimane di gara che performance avete raggiunto? Abbiamo chiuso con una performance intorno al 46% se non sbaglio, ma abbiamo anche raggiunto dei picchi più alti e da quali poi sfortunatamente siamo scesi sul finale. Come avete sfruttato le vostre conoscenze nel campo ingegneristico e nel trading? Dunque, forse quello che ci ha aiutato di più prendendo come punto di partenza il fatto che siamo ingegneri è l'approccio più elistico, cioè non soltanto fermarci a un aspetto che possono essere degli indicatori di performance di un titolo piuttosto che un altro, quanto l'idea di cercare di avere una visione più dall'alto, calarsi in un contesto mondiale, entrare in Italia e scegliere compagnie che operano anche all'estero, quindi guardare tutto più dall'alto, non soffermarsi su un singolo aspetto, su un singolo oscillatore, un indicatore, fare solo analisi tecnica. Quindi voi avete operato prevalentemente sul mercato italiano? Assolutamente. Forex, avete operato sul Forex? No, forse abbiamo fatto una piccola operazione, ma più per prendere confidenza con lo strumento. I nostri movimenti di performance e anche una grossa parte del capitale erano tutti investiti su titoli azionari italiani. Qual è stata la vostra operazione più bella? Probabilmente tra le prime, cioè il credere in due o tre titoli, in particolare mi rimette Autogrill, subito dopo lo spin-off abbiamo deciso di investire nella compagnia che ha tenuto la parte Food & Beverage, abbiamo dato fiducia e nel giro di due mesi siamo riusciti a ottenere con la leva una performance vicina all'80%. E la peggiore? La peggiore è stata l'entrare in un settore che stava performando molto bene, il risparmio gestito, e poi subire lo shock che ha subito tutto il listino in seguito all'invasione ucraina da parte della Russia. Qual è l'insegnamento che vi porta da casa dopo questa competizione? Sicuramente che quando si opera con i propri soldi entra anche l'aspetto psicologico, qualcosa con il quale noi non avevamo ancora fatto i conti, perché avevamo sempre studiato, visto dall'esterno e mai agito, operato con qualcosa che si andava bene. Ci portava un guadagno, si andava male, invece ci portava una perdita, comunque non ci dava niente. Per ridurre l'aspetto psicologico che caratterizza il trading, non avete pensato di sviluppare un trading system grazie alle vostre competenze in campo ingegneristico? Dunque, noi non ci sentiamo molto confidenti con quelle che sono delle pure analisi tecniche, diciamo un approccio che fa riferimento puramente a dei movimenti di oscillatori o indici. Pensiamo che sia più intelligente, comunque più di buon senso, avere un orizzonte temporale più lungo, che quando dico più lungo parlo di più di sei mesi, assolutamente, infatti questa competizione era molto stretta per poterlo poi implementare. Quello che ci portiamo a casa è capire che la volatilità c'è, che andare bene, far trading bene, significa sostanzialmente battere l'indice, battere l'indice è la performance che si può fare. Combattere contro l'indice, cioè un indice che va molto giù, riuscire a guadagnarci lo stesso, quindi riuscire magari a scioltare un momento giusto, eccetera, è un qualcosa che forse necessita di più esperienza, più sensibilità, qualcosa che a noi sicuramente mancava e che quindi sentivamo distante da quello che poteva essere e quello che facciamo noi.